Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con Nokia Bella installato su N8, vediamo ora come si comporta questo telefono quando andiamo a zoomare su un dettaglio. Come potete quindi apprezzare la dinamica di utilizzo è discretamente buona, se considerate appunto che abbiamo tra le mani un telefonino appunto N8 giornata Nokia Bella potete apprezzare come uno zoom essenzialmente digitale viene comunque trattato come potete vedere anche voi viene trattato bene la potenza dello stesso è decisamente decisamente buona la reattività anche vengono ovviamente rimessi a fuoco poi i dettagli sullo sfondo come ovviamente se andiamo a zoomare anche su dettagli più vicini gli stessi poi vengono trattati ugualmente bene. La demo video termina così spero che ovviamente questa prova sullo zoom dell'ottica di N8 vi sia utile io quindi vi saluto vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i nostri canali social che abbiamo attivato per voi siamo su Twitter Facebook YouTube Dailymotion se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati soprattutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto grazie ci vediamo online un saluto presto da Giuseppe Ragazzini